Ciao a tutti ragazzi e benvenuti a questo nuovo video Oggi siamo su un nuovo video inerente a Jarvis E vi racconto un po' quello che sto facendo Allora, il primo lavoro che ho fatto da quando ho so... No, in verità questo l'ho fatto a luglio perché mi era venuta un'idea Allora mi sono scritto... Prima era tutto un incorporato, era un server unico L'ho scorporato in tre server, non so se ve l'ho detta sta cosa però ve la dico adesso L'ho scorporato in tre server diversi Perché ognuno fa funzionalità diverse e non aveva senso tenerli attaccati Anche perché crashava uno, crashava tutto Adesso, no in verità no Perché era multitread, magari moriva un thread Però è meglio, funziona meglio Anche perché hai tre console diverse, puoi interagire in maniera diversa Conviene fare sta cosa e infatti è quello che ho fatto Continuiamo ad andare avanti con le varie migliori che ho fatto Sono andato a intervenire sulla rete neurale adesso Perché la struttura essendo buona e migliorata Potevo andare a intervenire sulla rete neurale per migliorare la prediction Le predizioni di Jarvis Dato che sui dataset purtroppo la carenza è oggettiva Ci abbiamo quello che ci abbiamo Non si può fare meglio se non con il vostro aiuto Perché comunque mi avete dato davvero grandi spunti Nella fase di testa che abbiamo fatto a maggio-giugno Cioè, quattro giorni è durata, 27 maggio-primo giugno Però, raga, è uno soio Allora, un attimo, con calma Che cosa mi serve adesso? Sono qua per chiedere di nuovo il vostro aiuto Il vostro aiuto perché ho visto che la maggior parte di voi non si interessa tanto delle funzioni da assistente vocale Quindi quelle che creano file all'interno del computer Che si spostano nelle cartelle Rimuovano directory che cercano su internet Fanno tutta la parte di scrapping La maggior parte di voi è più attratta dal lato chatbot Nel senso, l'assistente è molto human friendly Dici una cosa, lui ti risponde Ciao, ciao, come stai? Ed è questo appunto che a me serve Adesso vi spiego Quello che servirebbe voi faceste Vi ricordate il bot che si chiama dataset create? Ve l'avevo lasciato in descrizione diverso tempo fa Ve lo lascio in descrizione anche stavolta Ed è questo coso qua Ve lo faccio vedere Chioccio la dataset create bot Ed è il bot che utilizzeremo anche stavolta per creare dei dataset Vi faccio vedere che cosa serve Che cosa vi chiedo stavolta Quello che mi serve è che voi inviate a questo bot La domanda e la risposta che volete lui vi dia Per esempio, è molto molto facile Voi gli scrivete ciao Che cosa vi aspettate? Un altro magari ciao Per esempio, una cosa del genere Separati da una virgola Ok? Quindi, tu gli dici ciao E virgola la risposta del bot Eccoci qua, per esempio Stiamo parlando col chatbox Adesso è offline Ve lo avvio anche così Vi faccio vedere come funziona Ok ragazzoli, eccoci qua Lui ti dirà grazie per l'aiuto Perché tu comunque gli hai mandato un messaggio Ciao, ciao Esatto Come stai? Questo è quello che chiedete voi Versus Quello che volete che lui vi risponda Gli mettete nella prima parte del messaggio Quello che dovete dire voi Quello che La domanda che gli volete fare Virgola E non nient'altro Virgola La risposta che vi aspettate da lui Tutto Tutto Bene Grazie E ne potete mandare più di una Se tutto è corretto Lui vi dirà grazie per l'aiuto Se gli mandate un tipo di dato non supportato Si incazza Se Gli scrivete Semplicemente Ciao Per esempio Senza la virgola Lui ti dirà Ricorda di utilizzare il formato Domanda Virgola Risposta Importante la virgola Il separatore Perché utilizzo quello come separatore Non ho impostati altri Ok Perfetto Come al solito ragazzi Io sto qua a chiedere il vostro aiuto Perché da solo io non ci riesco Non Ma anche semplicemente Alla parte Di lavoro la faccio Io non c'è problema La parte difficile è quella di ideare conversazioni Perché Che ne so Ma non puoi pensare a tutto Non puoi mai pensare a tutto da solo E per questo Mi faccio dare una mano da voi ragazzuoli E Ottimisticamente parlando Se davvero Il bot riceve buone informazioni Se mi date qualcosa per crearlo Molto molto human friendly Vi dico Che Approssimativamente Una settimana Dieci giorni Vi lancio un'altra beta Da poter scaricare e testare Che ne dite? Penso si possa fare Penso si possa fare Sto lavorando tanto sulla parte di Neural networks Di Jarvis Per quanto riguarda La parte di autentificazione del client Diciamo che la sicurezza informatica Non è il mio forte Però comunque dovrebbe essere Abbastanza sicuro Anche perché poi tutti i dati sono tenuti Cioè tutte le connessioni sono fatte tramite socket Non viene salvato niente Muore il server Muogliono tutte le connessioni Il IEI massima La rete che utilizziamo È una rete comunque circoscritta e sicura Quindi non ci sono problemi Quindi magari oddio Qualcuno può prendere Entrare e controllare il mio computer Da remoto No, è vero No, state tranquilli Non c'è problema Detto questo Io vi ringrazio Vi ringrazio come al solito Seguiranno notizie Vi ricordo anche il canale Telegram In cui io do informazioni Tanto trovate tutto in descrizione Si chiama Jarvis Testing È un canale in cui ci sono 141 persone E io racconto ogni tanto quello che faccio Vi do piccoli input su quello che succede Anche qua ovviamente usciranno idee inerenti All'assistente Comunque ragazzi Io vi ringrazio Vi ringrazio per l'aiuto Vi ringrazio per la disponibilità Un bel mi piace Se vi sta piacendo l'idea Se questo è un progetto che è seguito ormai da un anno Un anno quasi Davvero Praticamente a settembre saremo un anno Amazing Ragazzi Vi ringrazio per la visione Ci vediamo a un prossimo video Ciao a tutti ragazzi